oh ah andrea sta per montare oh sei venuto? sei venuto tutto? hai fatto tutto? tutto quello che devi fare, devi fare ah benissimo ah si l'ho fatto tutto adesso la parola la provoca lui ha organizzato il santo patrone morti di riva di 9 settembre in cara di patangio ora ora 430 ora 430 la gara si svolgerà nella nuova struttura comunale dove? dove? non si sentite? dove? dove? nella nuova struttura comunale dove? dove? aspetta l'organizzazione l'organizzazione declina la responsabilità per eventuali incidenti o donne o donne donne si parla di donne? ah don danni ah docce? docce di donne nude? docce danni 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 a persone cose che possono verificarsi prima durante o dopo l'organizzazione venite ah danni dopo e prima la masturbazione complimenti durante la masturbazione ah durante la masturbazione complimenti allora allora mi dimostra quindi ma